ovviamente speriamo di suonare il più possibile, andare in giro a condividere la nostra musica con gli altri infatti ad esempio settimana prossima dovremmo essere allo Skyline a Dakate un locale aperto da poco, vi aspettiamo tutti quanti lì bene bene, ovviamente daretevi aggiornate, avete una vostra pagina Facebook se non erro sì sì, abbiamo una pagina Facebook che aggiorniamo a dir la verità non spessissimo perché siamo più i tipi diciamo da sala prove, da concerto però cerchiamo di dare il nostro meglio ecco bene bene, allora noi volevamo fare l'ultimo brano qui nel studio per poi ovviamente fare i saluti finali che cosa ci fate ascoltare come ultimo brano? faremo ascoltare Come Together dei Beatles bene il... giusto qualche minuto per organizzarci qui in studio sono tutti pronti? bene, quindi dei Beatles Come Together Radio e Telelocale Enjoy Radio A Oh, the roller he got, hey, down to his knee Got to be a dogger, he's just too old, he flees Shh, 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 shh He went on shoes and he got toe down football He got monkey finger, he shoot Coca-Cola He say, I know you, you know me One thing I can tell you is you got to be free Come together, right now, over me One thing I can tell you is you got to be free Come together, right now Come together, right now Come together, right now Over me Bene, bene, complimenti ancora per la vostra professionalità Bene, a questo punto noi siamo quasi a conclusione della nostra puntata Parliamo, sì, abbiamo la pubblicità e poi andiamo con i saluti finali Radio Tele Locale Spot Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mangibello a Ragusa A Fontana, ristorante e pizzerie con trada a Fontana, Chiaramonte e Gulfi C'è Cocò, bottega gastronomica, vieni così a 4, Chiaramonte e Gulfi Ah, sta, da Cocò si sta bene Su le mani Induzio D'Avola, impianti elettrici civili e industriali Via Fiera, 43 Chiaramonte e Gulfi Cutrone Vittorio, pittore edile via Gulfi, 225 Chiaramonte e Gulfi Il servizio animazione Hashtag, di volume e lato festa La nostra animazione è sicuramente la scelta ideale Per tutti coloro che vogliono la certezza di un evento divertente e musicalmente perfetto Con l'energia e l'esperienza del nostro staff sapremo soddisfare e divertire voi e tutti i vostri invitati Offrendovi un ventaglio completo di proposte per coinvolgere tutti in un divertimento senza fine Inoltre il nostro staff sarà in grado di creare l'atmosfera giusta al momento giusto Radio Telelocale non è solo un sinonimo di divertimento ma anche di eleganza e professionalità Bene, ovviamente grazie ancora ai nostri partner commerciali Allora le cose belle finiscono in fretta Finisce qui la nostra puntata di note d'autori Che ovviamente vi riproporremo nell'arco dei prossimi mesi Con altri speciali, con altri live qui in studio Allora andiamo ai saluti finali Ovviamente complimenti a voi di aver vinto il premio Radio Telelocale Ma ultimamente di aver vinto questo contest In bocca al lupo per il vostro futuro Volevate fare dei saluti? Sì, intanto prima dei saluti volevamo ringraziare tutti quanti il nostro amico Emanuele Magri Che appunto in questo contest mi ha sostituito Dato che io sto studiando fuori E quindi ha fatto questo favore Ringraziamo tutti quanti Gli siamo tutti quanti veramente grati Grazie a voi No, grazie, grazie Per quanto riguarda i saluti Sì, salutiamo tutti quanti Tutti i nostri, per così dire, fans O comunque insomma Le persone che ci seguono Ecco che ci sostengono Perché è bello quando Si fanno dei sacrifici che delle persone Poi comunque Diciamo lo capiscono Comunque ti seguono Veramente bello Noi musicisti senza il pubblico Sì, sì, sì Non possiamo Non siamo niente Sì, sì E' il pubblico quello che ti trasmette emozioni Quello che poi ti fa capire Che dopo tanto lavoro Fatto a casa, in studio Dove appunto Ti fa capire proprio le cose belle Sì, sì, sì Queste sono le soddisfazioni che ti dà la musica Sì, sì, sì Bene, allora Io volevo proprio salutare tutti Quindi Grazie a Iris Stracquadaini Grazie Grazie a Martina Grazie Grazie a voi Grazie a voi E poi salutiamo ovviamente tutti Matteo Davide Giovanni E ovviamente Emanuele Magri Che è stato un po' lo special guest Di questa diretta Ovviamente Salutiamo anche il manager Mi dite il nome? Salvatore Salvatore Salutiamo il manager Noi vorremmo ringraziare anche voi Che siete stati veramente gentilissimi Disponibili È stato veramente Un bel pomeriggio Ecco Grazie Grazie a voi Di essere Appunto Di aver accolto Questo nostro invito In studio Grazie a Vincenzo Burrafato Grazie A quel simpaticone Di Giamito Messina Bene E allora Non ci resta Che appunto Salutare tutti i nostri amici Che ci hanno ascoltato E che ci ascolteranno Perché ovviamente Potete riascoltare La nostra puntata Ovviamente è stata postata Sulla nostra pagina facebook Ma sul nostro sito Springer.com E a questo punto In bocca al lupo Per il vostro futuro Grazie Energia Passione E determinazione Voi ce l'avete E quindi in bocca al lupo Grazie 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 a tutti.